Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo all'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato su Windows Update dalla Microsoft quindi in questo caso se avete problemi ad installare questo aggiornamento automaticamente possiamo installarlo manualmente oppure fare altri procedimenti per risolvere questo problema quindi in questo caso andiamo un attimo su impostazione risoluzione problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi Windows Update come primo metodo andiamo così a eseguire Windows Update per rilevare così uno dei suoi problemi più gravi così facendo poi possiamo passare alla parte successiva e risolvere gli altri problemi quindi dobbiamo prima aspettare il rilevamento verifica la presenza dei problemi Windows Update rilevato il problema è stato risolto facciamo no quindi facciamo chiudi ora andiamo un attimo a creare un documento di testo documento di testo entriamo così nel documento in descrizione ti ho lasciato dei comandi da inserire in questo documento di testo salva con nome qui metti tutti i file qui vai a scrivere file punto desktop file salva tasto destro sopra esegui come amministratore 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 il servizio di windows update e poi lo ripristiniamo quindi adesso vado su windows update windows update a me funziona quindi gli ultimi aggiornamenti sono stati installati quindi quel procedimento che ti ho fatto fare era quello di arrestare windows update accendere di nuovo windows update e ripristinarlo ora se non dovesse funzionare andiamo direttamente su esplora risorse vai su questo pc disco locale c scendi fine giù fino a trovare windows scendi fino a giù fino a trovare la cartella software distribution download elimini la cartella download fai conti e chiudiamo qua se non dovesse bastare vai direttamente su servizi scendi fino a giù fino a trovare windows update se questo servizio è arrestato avvia il servizio quindi stato del servizio è in esecuzione tipo di avvio metti automatico e qua c'è scritto avvio quindi metti avvia e fai applico ora come ultimo procedimento possiamo direttamente installare questo aggiornamento manualmente quindi vado di nuovo su windows update cronologia degli aggiornamenti questo è l'aggiornamento 23h2 quindi copio così questo questo aggiornamento che devi fare quindi quello del 28 luglio perché che qua a me è l'ultimo aggiornamento che ha installato fai circa ed eccolo qua windows 1 23h2 per 64 e fai download il file deve finire come .msu per essere installato quindi io non posso installarlo perché sicuramente mi dirà questo aggiornamento è stato già installato su questo pc quindi clicchi sopra e lo installi manualmente ovviamente questo procedimento funziona con tutti i problemi se hai problemi in futuro con gli aggiornamenti quindi questi metodi possono servirti se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao